Dal governo arrivano norme semplificate per gli appalti. La ricostruzione pubblica dell'Aquila del Cratere 2009 avrà le stesse norme semplificate previste per gli appalti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel corso del CDM di ieri è stato approvato infatti un decreto legge recante interventi urgenti in materia di protezione civile di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi in cui sono previste procedure che snelliscono i passaggi relativi all'affidamento delle opere appena approvate, interventi che consentiranno alle stazioni appaltanti di andare agevolmente alla ricostruzione pubblica talvolta a tallone d'Achille dell'intero processo potrà proseguire più speditamente. C'era stato qualche segnale con il DL scuole qualche tempo fa con la possibilità del sindaco presidente di provincia in ruolo di commissario quindi con delle semplificazioni ma soprattutto l'ultimo che assimila tutta la ricostruzione pubblica dell'Aquila come se fosse un piano straordinario esattamente come il PNRR e questa è una cosa che nel resto d'Italia è successa poche volte penso a Genova per il Ponte Morandi perché questa estensione di norme riguarda solo la città dell'Aquila e solo il cratere 2009 quindi credo che si sia finalmente compreso come l'Aquila da questo punto di vista rappresenti un modello a cui far riferimento e anche un test nazionale che magari poi può essere utilizzato su altri territori per altri interventi per altri progetti di natura strategica. Per il sindaco si tratta dell'ennesimo segnale di attenzione da parte del governo Meloni nei confronti dell'Aquila e dell'Abruzzo ma un altro aspetto molto importante è la soluzione all'impasse generata dalla scadenza dei contratti dei due titolari degli uffici speciali con la loro ulteriore proroga che consente di restituire agli ingegneri Salvo Provenzano e Raffaello Fico il potere di firma che è di loro esclusiva competenza. La proroga dei titolari degli uffici speciali che forse non si comprende bene ma sono gli unici titolati a firmare tutta l'attività degli uffici speciali non hanno vice non hanno surrogati non hanno persone che li possono in qualche maniera che possono mettersi al loro posto e quindi si rischiava un blocco dell'attività. Questo era stato chiesto nel corso della visita all'Aquila del ministro per la protezione civile per le politiche del mare Nello Musumeci con il ministro aggiunto pure Biondi siamo d'accordo che ulteriori necessità potranno essere presentate e prese in considerazione in corso di conversione del decreto grazie al prezioso supporto dei rappresentanti abruzzesi eletti in Parlamento.